Di Bagarella dopo, di come me ne parlano anche quando lui era in caccia, mi diceva molto rispettato ma di tutti gli uomini d'onore, rispettato al massimo perché dice non guarda niente, quando diceva di ammazzare qualcuno era un mafioso proprio, un mafioso. Di cosa si parlava negli incontri di cui ci ha parlato prima? Con Bagarella? Sì. Con Bagarella di cosa si parlava? Si parlava sempre di morti, con Bagarella dovevi parlare solo di morti, c'era la guerra quindi bene o male sempre quelle erano le cose. Leoluca Biagio Bagarella, fratello di Calogero Bagarella e Ninetta Bagarella, cognato di Totorina, è una delle figure più emblematiche di Cosa Nostra ed in particolare della famiglia dei Corleonesi. La sua figura criminale ha attraversato le più importanti vicende di Cosa Nostra e di conseguenza del nostro paese. Il pentito Antonino Calderone riferisce che già negli anni 70 Bagarella era considerato un esponente di primissimo piano all'interno di Cosa Nostra. Lei ha conosciuto Bagarella? Io l'ho visto una sola volta che me l'ha presentato Loreina in un ristorante che si chiamava, aveva qualche cosa a che fare con i cavalli, la scuderia. E al di sopra dello stadio verso, mi pare, per andare alla favorita, di sopra, non so di essere preciso. In che anno avvenne questa presentazione? Ma a partire, come dicevo, in questo periodo che io frequentavo il Palermo perché mio fratello era a Lucciardone, perciò a partire dal luglio del 71 fino al 73, ma nel mezzo, nel 72, non le posso essere preguiti. Senta, la presentazione ebbe i caratteri cosiddetti della ritualità all'interno di Cosa Nostra? Come uomo d'onore. Glielo presentò come uomo d'onore? Il signore. E poi non l'ha più visto? Cioè lo conobbe solo? No, 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 perché i Corleonesi, non so come è stato che me l'ha presentato, i Corleonesi non presentano i suoi uomini. E' difficile, devono avere molta fiducia per presentare i suoi uomini ad altri. E la conferma del peso specifico di Bagarella la fornisce anche il generale Subranni, il quale condusse indagini investigative nella Palermo degli anni 70 e successivamente coordinò i Ross, guidati dal capitano ultimo, che arrestarono Totorino. Tra l'indagini erano tesi a far luce sul clan dei Corleonesi, guidati già all'epoca da Salvatore Riina e da Leo Luca Bagarella, che proprio in quegli anni stavano acquisendo una forza sempre maggiore. Subranni Antonio, nato a Termoli. In questo periodo, ecco, l'oggetto delle sue investigazioni è stata l'organizzazione Cosa Nostra in particolare? Sì, l'attività era tutta rivolta contro la criminalità organizzata per tracciare quella che era la nuova mappa della mafia per cogliere i momenti di frattura, di rottura all'interno e fratture che andarono a cadere proprio nell'anno 77 con talunni omicidi di grave identità. Lei nel 1978 ha redatto un rapporto, allora si chiamava ancora così, un rapporto di Polizia Giudiziaria datato 25 agosto 78 e che aveva come oggetto l'omicidio del colonnico russo. Questo rapporto che condensava ovviamente un'attività di indagine lunga e complessa, lei aveva, se non ricordo male, disegnato già quello che poi è stato chiamato il cosiddetto strapotere dei corleonesi all'interno di Cosa Nostra. All'interno di questo rapporto emergeva la figura di Bagarella Leo Luca che è imputato di questo procedimento penale e che giustifica questa domanda che so per rivolgerlo. Quindi se lei può in un certo senso sintetizzare le risultanze contenute in quel rapporto con particolare riferimento alla figura di Bagarella. Innanzitutto è da dire che quello è un rapporto di denunce, non un rapporto di valore informativo, di denunce di tutto il gruppo che allora chiamavano, e forse per la prima volta, i corleonesi. Per tutta una serie di fatti gravi, di omicidi, come ad esempio l'eliminazione materiale di coloro i quali duciavano in quello che era il gruppo di mafia tradizionale, tra queste figure di vertice c'era certamente Bagarella fin da allora, era considerato uno che esprimeva la volontà di Cosa Nostra. Per esattezza non chiamavamo Cosa Nostra, ma dicevamo la mafia dei corleonesi, il detente per mafia dei corleonesi, quel gruppo feroce di mafiosi che avevano una ingerenza deneteria in tutte e quattro queste province occidentali. Quindi quella fu la ricostruzione della situazione della mafia nelle sue due grandi componenti, quella mafia tradizionale e la mafia dei corleonesi, che poi era la mafia emergente, quella che dissentiva da una diversa linea dell'altra mafia e quindi cominciò a colpire anche indiscriminatamente, senza anche una causale talvolta, pur di eliminare materialmente chi si opponeva a questo modo di emergere di questo gruppo nuovo. C'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quanto costituire un pericolo e una minaccia all'espansione e a questo avanzamento continuo della mafia dei corleonesi. La reputazione di Leoluca Bagarella all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra è sempre stata ai massimi livelli, come testimoniano le parole di Francesco Marino Mannoia, uomo d'onore ed esperto raffinatore di eroina per conto delle famiglie mafiose. Senta, tornando un po' all'imputato, cioè a Bagarella, ci può dire all'interno di Cosa Nostra qual era il ruolo di Bagarella, qual era anche la figura di Bagarella, per come lei l'ha personalmente conosciuto? Io l'ho conosciuto innanzitutto verso il 75-76. Ci vedevamo alcune volte, lui se la faceva alla vocceria, in un negozio di formaggi di un uomo d'onore della famiglia che apparteneva a Pippo Calò, comunque nel mandamento, apparteneva al mandamento Calò, Gaetano Calista, e ci frequentavamo spesso lì. Lui era un uomo d'onore, era un soldato, non aveva carica, Luca Bagarella, ma era una persona molto valida e spietata, come del resto quasi tutti i componenti della famiglia di Colleone. Siamo stati molti anni in carcere assieme, anche se saltuariamente. Lo conosco molto bene. È una persona molto valida e molto irruente. Quando lei dice una persona molto valida, in pratica cosa significa? Cioè valida da che punto di vista? Parlo sempre come uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra, ovviamente. La validità in seno a Cosa Nostra sta a significare la bravura, la personalità dell'uomo e la capacità di commettere delitti e non avere nessun problema ad essere una persona molto in gamba e soprattutto a commettere omicidi. Ecco, il valido si intende in questo. Una validità certamente negativa, ma comunque in seno a Cosa Nostra, valido significa che ha scherzo del pericolo, che fa una persona molto in gamba a commettere omicidi. Giuseppe Drago, killer facente parte del gruppo di fuoco che negli anni Ottanta portò a compimento la guerra dei Corleonesi contro le famiglie palermitane, conferme il peso di Bagarella nell'ambito di Cosa Nostra. Cioè, come parente acquisito, mentre io non ero combinato, vedevo il massimo rispetto che avevano tutti nei suoi rigali, sopportando io avevo 15 anni, 16 anni. Massimo rispetto di mio zio, di Marchese Filippo, che mi viene anche un lontano parente, sarebbe quello di Filippo Marchese, il capo. Il suo zio è Vincenzo, ma sarebbe il suocero di Bagarella. Gli portavano rispetto anche ad altre persone. Massimo rispetto da tutti gli altri uomini d'onore. Poi io, dalla famiglia di Brancaccio, camminavo con i Graviano, e lui chiese cose. Ne parlavano tutti bene, un tipo di carattere duro. Ne parlavano tutti bene in quanto uomo d'onore, ne parlavano tutti bene in quanto uomo duro. La sua parola contava, cioè se diceva una cosa bisognava starla a sentire. Insomma, un uomo rispettatissimo al massimo, e anche ad una certa importanza nel rilevo di Cosa Nostra. Cioè, negli alti vertici di Cosa Nostra. Una delle azioni più eclatanti di cui si è reso partecipe Leoluca Bagarella fu senza dubbio l'omicidio del commissario di polizia Boris Giuliano, avvenuto a Palermo nel luglio del 1979. Giuliano aveva indagato a fondo sul traffico di stupefacenti tra Sicilia e Stati Uniti, e aveva scoperto un covo utilizzato anche come raffineria in via Pecori Giraldi a Palermo, nel quale erano stati trovati dei documenti falsi e delle fotografie recenti di Leoluca Bagarella, insieme ad armi e denaro. Lo stesso Giuliano aveva fatto intercettare e sequestrare all'aeroporto di Palermo una valigia proveniente da New York contenente 500.000 dollari, che era il prezzo che Cosa Nostra americana aveva pagato per una partita di eroina inviata dalla Sicilia. Tanto era bastato per scatenare la furia di Cosa Nostra e dei Corleonesi, che tesero l'agguato a Giuliano all'interno del Bar Lux a Palermo. C'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quando costituivano un pericolo e una minaccia alla espansione, a questo avanzamento continuo della mafia dei Corleonesi. E quindi l'omicidio del dottor Boris Giuliano è uno dei tasselli di questa strategia? Lo conoscevo benissimo, era uno degli investigatori più capaci che Palermo abbia espresso e quindi costituiva certamente un grosso pericolo per la mafia. L'esecutore materiale dell'omicidio fu Bagarella e anche se fu condannato solo nel 1995, già all'epoca i sospetti erano caduti su di lui. Ma i testimoni oculari non fornirono grande aiuto agli investigatori. Era troppo forte il timore che un personaggio come Bagarella era in grado di suscitare ed in effetti, anche nel 1993, quando si aprì il processo nei suoi confronti, tale timore era ben presente, come si può ascoltare da queste testimonianze. Lei era il gestore del Bar Lux nel luglio 1979 quando avvenne l'omicidio del dottore Giuliano, vero? Si può raccontare brevemente che cosa vide quella mattina, che cosa ti ricordo? Io ero nella pasticceria a guardare delle fotografie con il fotografo, nel frattempo entra il dottore Giuliano e mi prende su un caffè. L'ho visto da lontana e ci sei reddito al fotografo, ci sono molti e c'è il dottore Giuliano, un tiro dalla pasticceria e vado alla casa. Mi salutava perché lo conoscevo, anzi non mi voleva pagare il caffè ma non l'ho voluto pagare, mi ha dato dei soldi, nel frattempo gli ho dato lo scontrino. C'è una persona col forsellino, come dire un buco, per prendere come a me non li deve prendere su un caffè, invece c'è la pistola e metto a sparare. L'ultore Giuliano è coltato a terra, poi mi ha puntato la pistola a me, poi si appassò e fa una serie di colpe di pistola all'ultore Giuliano a terra, poi si alzò, mi ha puntato di nuovo la pistola e ha scappato. Ma alle 8 e 2 minuti, sono venuti 5 corsi costorari e c'è. Il dottore Giuliano tutte le mattine veniva nessun caffè? No, veniva solo quando c'era le scuole, si accompagnava i suoi figli per essere il novesse, il bondire, mai veniva da me suficilmente. E' il suo padre soltanto a prendere i due figli? Sì, sì. A prendere il caffè da sopra? No, no, completamente. Lei quindi quando è entrato questo signore che poi ha sparato era alla cassa, vero? Sì, era alla cassa. E che distanza ci poteva essere tra la cassa e il dottore Giuliano? Il dottore Giuliano era quasi a questa lontananza, vicino a me, proprio vicino. Quindi sostanzialmente il dottore Giuliano aveva appena ritirato lo scontrino? Sì, sì, aveva ancora scontrino i suoi delle malattie maresi che erano insomma risolute a precisi quanto erano, ma erano un po' più spiccioli. Senta, lei ci può fare una descrizione anche sommaria di questo giovane che entrò, di questo signore che entrò con la pistola? Descrizione in che senso? Come la persona com'era? Sì, com'era, com'era. Uno stacciuto? Ma poi sai, in quel momento era tutto, lo sai, quando uno entra a fare una cosa, era tutto arrabbiato. Dice, ma ti fai, ma ho capito, perché era uno stacciuto? Sì, sì, però ho detto già in quest'ultimo. Sì, sentite, ho risposto. Sì, sì, vabbè. Vabbè, e oltre che era stacciuto non ci può dire altro, perché a suo tempo lei fece una descrizione di questo signore. Comunque, per esempio, a suo tempo il Siragusa ha sentito, disse, che il giovane aveva circa 35 anni, statura di poco inferiore a 1,70 m, credo che avesse la stessa statura del dottor Giuliano, corporatura robusta, braccia molto robuste, capelli con taglio corto, abbondanti, castano scuri, viso rotondo, molto pieno, non aveva baffi e non portava occhiali, indossava un pantalone di colore beige e magliette a maniche corte, molto chiara, molto chiara maglietta. Nella mano sinistra teneva un borsello di colore nero o marrone di modeste dimensioni, non del tipo di quelli che si portano a fracolla. Lei ha ricevuto delle immagini? Lei ha ricevuto una lettera, tra cui c'era scritto, morirai tu e con traga. Allora, la domanda è una per cominciare, che cosa riguarda di quella mattina del luglio 79, quando venne ucciso il dottore Giuliano? Lei era lì, se ci può raccontare brevemente, ma con precisione, quello che ha visto e sentito? Senz'altro, siccome già sono passati 13 anni, ho quasi 67 anni, ma mi sforzo per aiutare la giustizia e praticamente consegnare a questi individui infame e delinguenti alla giustizia che sia condannato, perché tutt'oggi per me è una cosa... Va bene, lascia stare i propri disegni. No, perché sono nervoso. No, 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 stia calmo perché noi dobbiamo fare giustizia. Il giorno che io sono andato dal signor Siracusa del bar, essendo che precedentemente ho fatto un nozze d'argento delle fotografie, essendo il sabato che 13 anni fa alla palazzina cinese dove svolgevo io l'arte di fotografo lì, che venivano molti e molti matrimoni e si lavorava, sono deciso di portare le fotografie il sabato perché già erano pronti. Entrando dentro il bar, praticamente vide il signor Siracusa e ha avuto un'espressione. C'è il signor Siracusa, c'è, ma si è tolto i baffi nelle fotografie, c'è un capolavoro, c'è male. Per non di meno, dove ci mettiamo a sfogliare l'album delle fotografie dei nozze d'argento? Ci mettiamo nel banco dove c'è la pasticceria. va beh, mentre è stretta è una strettoia mentre io apro l'album guardi che bella questa guardi che bella quest'altra dici mi scusi, dici c'ho clienti allora siccome è stretto io educatamente sono uscito fino all'angolo dove c'è l'entrata ho fatto uscire a lui e me ne ritorno di nuovo nel punto dove c'è l'album ora davanti a me nella vetrina c'erano saccocine di patatine questi che si sfilavano non so, patatine, nei saccocine c'erano caramelle, cose avevo tutta la visuale occultata mentre suonavo tutte queste frazioni di secondi sento fare e allora dentro gli orecchi miei non immaginavo essere colpi di pistola ma bensì mi rivolgo con gli occhi e lo sguardo nella macchina espressa solo la mia sinistra quando invece ho sentito gridare hanno ucciso il capo della mobile Boris Giuliano ci siamo resi tutti conto che una cosa era di grave una cosa gravissima e scappiamo tutti appena scappiamo tutti di là sentendo questi colpi non andai io a intuire che erano colpi di pistola e ha pensato a un cortocircule nella macchina espressa e mi sono girato così sentendo invece gridare gridare hanno ucciso il capo della mobile Boris Giuliano ci siamo resi io mi sono reso conto che era della gravità e ci fu scappa scappa da lì uscendo appena uscendo uscendo appena per girare vedo sfrecciare un signore alto un metro e sessanta un metro e sessanta cinque un affare del genere non arrivava a un metro e settanta grosso perché l'ho visto di dietro un collo con la pistola così in aria la pistola in aria e faceva uè 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 si signora tenendola si si in aria non so la sua caratteristica la impugnava nella mano nella mano destra destra si la impugnava nella mano destra poi girando dalla strada girando dalla strada c'era una macchina colore gialla che attendeva uno insomma messo là mezzo occultato non so come era combinato perché di lontano logicamente con tutto questo con una freddura con una calmezza propria tipo che veniva da un ricevemento di una festa si mette nella macchina e se ne va ritorno indietro io con un altro signore adesso io dico chiamate la polizia senza perdere tempo macchina gialla ma un giallo sacchia sono peggio dei tassisti una cosa del genere insomma siamo fissati in faccia la pistola no la pistola il faccia la pistola il faccia il presidente che sarebbe successo se lo vedevi in faccia non avrei detto che l'avrei visto di spalla e giuridicamente avrei fatto il mio sacro dovere oggi ce lo riferirebbe senza perdere tempo è logico suo presidente peccato io non ho paura di nessuno peccato che non l'abbia visto di faccia esatto io non ho paura di nessuno ma non ho capito lei era dietro il bancone sì signore con la vista provvidenzialmente diciamo coperta dai pacchetti di patatine sì no ma erano altre perché era uno spirulone con tutti i saccocini che si mettono con patatine dopodiché entra l'assassino comincia a sparare nei confronti del dottore Giuliano e a lei l'unico pensiero che ci viene in testa è quello della macchina del caffè sì perché il rumore e giusto giusto si gira dalla parte della macchina del caffè quindi anche se avesse voluto vederlo in faccia non lo potevo vedere anche se io lo volevo vedere in faccia non lo potevo vedere perché guardava la macchina del caffè perché no ha messo attimi signore sono usciati attimi che io subito però ho sentito fare tim 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 ho guardato nella mamma vita perché lei è abituato a macchina del caffè che hanno cioè io non capisco com'è che pubblico ministero io non so com'è che confonde i colpi di calibro 765 con la macchina del caffè lei ha visto entrare il dottor Giuliano sì signora quindi lei ha visto entrare anche la persona che poi sparò al dottor Giuliano non mi ricordo questo completamente c'erano molte persone nel bar in quel momento sì lei è in grado di darci un'indicazione circa il numero delle persone no signora e lei chi stava servendo cosa faceva nel momento io stavo lavando le tazze signora e nel momento in cui entrò la persona che poi uccise il dottor Giuliano lei cosa stava facendo stavo lavando con le tazze signora e lei ha guardato in faccia la persona che poi sparò sul dottor Giuliano no signora in relazione alla posizione del bancone lei dove era messo nel lavandino signora e il lavandino che posizione assume rispetto al tavolo al banco destra centrale sinistra nel mezzo signora nel mezzo quindi lei ha tutto la ottica di fronte e la prospettiva di fronte tutta presente lei era presente nel luogo dove si è perpetrato il crimine nel 1979 ci può raccontare quello che ha visto poi ci stavo facendo i vetri dove c'era la casa ho finito di fare quel vetro e è entrato il dottor Giuliano sono ritornato al banco e poi a quel momento ho sentito un colpo di pistola e mi sono portato nella pedaglia e non ho visto più niente all'ultimo ho visto tutta la gente uscire e ho visto un signore che uscire aveva un pozzetto una pistola in mano e poi? poi non ho visto più niente e questo signore ce lo pote scrivere per quello che l'ha visto lei aveva la borsetta in mano e la pistola si più o meno come da altre ah no questo no io non posso dire perché non immagina di vederlo no ci può dire se era come complessione fisica se era molto alto se era di media statura era alto con le spalle un po' più grande di me quindi un po' larghe come come altezza dico più o meno poteva essere non lo so che era un giocatore di pallacanestro o un nano cioè più o meno non dico l'altezza ma come come lo definirebbe media statura ma non so mi posso dire un media settanta un media ottanta non è che mi posso immaginare le persone quanto sono alte tutti i testimoni dichiararono di aver visto benissimo il dottor Boris Giuliano ma nessuno aveva visto il killer va detto che all'epoca delle testimonianze rese al processo Bagarella era latitante e gli stessi testimoni erano stati più volte minacciati dai mafiosi comunque diversi pentiti tra i quali Francesco Marino Mannoia e Giuseppe Marchese suo cognato in quanto fratello della moglie di Bagarella Vincenzina Marchese nonché diretto responsabile degli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo divenuto collaboratore di giustizia nel 1993 confermarlo quanto gli inquirenti già sospettavano da più di dieci anni ecco io posso riferire quello che ha preso direttamente da Bontate e dai componenti da alcuni componenti della mia famiglia il Boris Giuliano c'è da precisare che era un validissimo poliziotto era una persona veramente in gamba nel perseguire una pista un indizio una qualcosa ed era una persona diciamo molto molto valida e molto temuta dalle organizzazioni appunto per la sua esperienza e per la sua qualità di diciamo di poliziotto il motivo nasce dapprima dal ritrovamento di Quacciochile se non ricordo se non ricordo male di eroina trovata in via Pecori Girardi che era di pertenenza a quella casa di Nino Marchese che è cognato di Luca Bagarella ecco dopo questo rimanimento di questa eroina che fu attribuita al Marchese e anche al Bagarella fu sequestrato sempre da parte del dottor Borgesi Giuliano furono sequestrati 500.000 dollari all'aeroporto di Punta Reis va precisato che quei dollari erano di pertenenza si appartenevano a Bontade quindi il mio rappresentante e a Salvatore in Serillo erano provento di eroina raffinata da me spedita negli USA e quindi parte del pagamento che rientrava in Italia e anche quella partita la partita di denaro sequestrato il dottor Borgesi Giuliano tendeva ad attribuirlo anche a questo gruppo diciamo dei collonesi a Luca a Bagarella e ad altri nel contempo il dottor Giuliano faceva anche delle grosse indagini su alcune esponenti di alto fonte era una persona che dava molto fastidio nell'ambiente di cosa nostra in special modo a questo gruppo di Bagarella e alto fonte e collonesi la loro lamentela era quella che nonostante Bontade in Serillo fossero i più grossi traffiganti di eroina in quel periodo il dottor Giuliano volesse attribuire a Bagarella e ad altri la responsabilità di quei soldi di quel grosso traffico di eroina che in quel periodo si faceva da lì scaturì la vendetta nei confronti del dottor Giuliano quindi se non ho capito male tra i i chili di eroina di via Pecori Giraldi e comunque l'attività di trafficanti stupefacenti di Bagarella e il ritrovamento della valigia di dollari non c'è alcun rapporto giusto? no ho capito perché sono appunto due episodi di pertinenza diciamo di due famiglie di due gruppi di mafia diversi ho capito senta invece passando un attimo per quanto riguarda gli esecutori materiali di questo delitto quali sono le conoscenze che lei ha preso all'interno di Cosa Nostra? materialmente a commettere l'omicidio era stato Luca Bagarella ma che in compagnia di Pino Greco Scarpuzzed e di Pietro Marchese io ho preso inoltre poi che fu avvicinato il proprietario o comunque gestore del bar dove è stato ucciso il dottore Giuliano per evitare in futuro che possa dare delle descrizioni riguardanti l'esecutore materiale ci può riferire in quanto a sua conoscenza in ordine dell'omicidio del dottor Boris Giuliano soprattutto alle causali ecco cominciamo le causali è quello che risulta a noi la morte di Boris Giuliano rientra nella scoperta del covid via Pecori Girardi nell'arresto di Marchese Antonino mio fratello con Antonino Gioe ecco se ci vuole raccontare cioè le circostanze dell'arresto di suo fratello e di Gioe e poi che cosa produsse l'arresto di suo fratello e di Gioe in termini di accertamenti di polizia giudizia noi eravamo avevamo in affitto una velletta a queste dacce a parte di mare in questa velletta spesso veniva a pranzo e cena eravamo tutti riuniti tra noi familiari un giorno di luglio è stato che aspettavamo che arrivasse mio fratello con mio cognato Bagarella e ritardavano non si vedeva nessuno dopo ci hanno avvisato nel TAD che purtroppo dicevano ristato a mio fratello allora c'è stato che noi ci hanno fatto spostare di là perché con la paura che potevano uscire come sono uscite le fotografie di Marchese Antonino in seguito perché hanno trovato il covo di Piero Correggiate che da quel covo hanno riscontrato e hanno trovato anche foto di Bagarella foto che erano di recente di come era lui avevano paura che quella zona che loro erano spesso là con noi venisse riconosciuto da qualcuno dei bagnanti diciamo e anche del proprietario dei villini e allora ci hanno fatto spostare di là e siamo andati in un appartamento al centro di Palermo e dopo c'è stato che abbiamo saputo e tramite anche mio zio che ci ha detto che avevano informato a loro praticamente dell'arresto di mio fratello insomma dopo hanno trovato quella impolletta della luce quella impolletta hanno risalito in questa via del covo di via Pecori Girardi sono andati là e hanno scoperto tutto il materiale che c'era dentro e mi sembra che mi hanno trovato anche fotografie di nuvoletta insomma altri altri indagini altri percorsi che si stavano verificando e niente praticamente dopo mio fratello dove è stato portato a manicome perché ha messo a dare i numeri dicendo che voleva la nave insomma ha messo a fare il pazzo e niente dopo due anni lui è uscito però è uscito in senso definitivamente però già prima di uscire definitivamente prendeva lui qualche permesso sempre con raccomandazione eccetera e c'è stato che io spesso sentivo parlare anche a mio zio e anche prima di arrestare a Bagarella che avevano sempre la mentere su questo Boris Giuliano che ci stava rompendo le scatole perché dice dovunque si va feccando indagare eccetera eccetera e da questo ho preso io praticamente che era Boris Giuliano quello che su questo copo che hanno scoperto si è messo a dare di più a parte di indagini che lui faceva anche dopo mi sembra che avevano trovato delle valizie una valizia con dei dollari insomma in Cosa Nostra si parlava di questo Boris Giuliano praticamente ha conoscenze dirette in ordine all'eventuale partecipazione di Bagarella all'omicidio di Boris Giuliano dirette da Bagarella no ma però dopo si parlava con mio fratello che dopo che era uscito un periodo di tempo parlavamo di qualche omicidio di qualche cosa che si doveva fare o già era stata fatta mi disse che anche Boris Giuliano dice lui che non era come un perumaccio solo questo ma di diretto quindi lei lo ha preso da suo fratello praticamente a quanto tempo il fratello di Giuseppe Marchese Antonino smentì il racconto del fratello Marchese Antonino 11357 ci stiamo occupando del processo nei confronti di Bagarella a Leo Luca imputato dell'omicidio del viceprestore Boris Giuliano noi abbiamo sentito in precedenza suo fratello e da questa audizione ne è nata l'esigenza per la corte di sentire anche lei però siccome lei è imputato di reato associativo di mare vero? ecco e quindi che è un reato connesso a questo fatto qui la legge le dà facoltà di esprimere la volontà anche negativa di essere esaminato quindi prima cosa ci deve dire se vuole essere esaminato non può essere esaminato e allora abbiamo detto che lei è fratello di Marchese Giuseppe sa che Marchese Giuseppe è un collaboratore un tragedatore diciamo meglio diciamo meglio un tragedatore un tragedatore ah tragedatore ah lei lo definisce così va bene e allora parlando di questo omicidio lei avrebbe riferito al suo fratello che l'autore era stato Bagarella Leo Luca dicendo testualmente Lucchino uffici cadere come un piro marcio non abbiamo avuto mai di questo genere di discorsi con mio fratello mai di questo genere non esiste niente lei conosce Bagarella Leo Luca si è il mio cugnato è il suo cugnato e non ha mai riferito niente non esiste niente non esiste niente e perché è solamente un'enfamedà che gli viene fatta a suo ragazzo da suo fratello nei suoi confronti e perché è perché è un tragedatore per ottenere benefici non sa quello che deve fare e per ora quale benefici avrebbe ottenuto suo fratello come quale benefici ha avuto riconosce dai benefici che ha ottenuto suo fratello si sanno e quali sarebbero per esempio gli hanno dato già la libertà e tante altre cose la libertà è libero suo fratello e tante altre cose ma suo fratello è libero le risulta che sia libero suo fratello le dico che gli hanno dato tanti benefici tanti benefici e quindi lo scopo e ne ho la certezza e quindi suo fratello accuserebbe in qualche modo lei non dell'omicidio ma della conoscenza c'è che dice che io gli abbia detto sono tutte infamità e conoscenza le confronti di un fratello le dico le dico che sono tutte infamità Leo Luca Bagarella fu arrestato più volte negli anni 70 e 80 ed anche imputato e condannato al maxiprocesso del 1986 ma sempre scarcerato nel 91 addirittura per via di un indutto uscito quindi di galera fece in tempo ad organizzare un matrimonio principesco a Villa Igea a Palermo arrivando a bordo di una Rolls Royce bianca a questo matrimonio parteciparono anche i fratelli Emanuele e Pasquale di Filippo cognati della moglie di Bagarella i quali una volta diventati collaboratori diventeranno anche tra i principali accusatori di Leo Luca Bagarella altri collaboratori di giustizia come Gioacchino Labbarbere ed in seguito anche Giovanni Brusca riferirono della responsabilità di Bagarella per gli omicidi di Ignazio Salvo e prima ancora di Salvo Lima ritenuti traditori dei Corleonesi per non essere stati in grado di aggiustare le sentenze del maxiprocesso torniamo quindi allo specifico dell'omicidio Salvo i nomi c'ero io Brusca Luca Bagarella Nino Gioe dei Trapanesi c'era Andrea Manciarracina Andrea Cancitano Matteo Messina Denaro e altra gente che ho conosciuto a quell'occasione c'era Giovanni Bassone voi eravate siamo partiti alla casa della mamma di San Giorgio abbiamo portato le nostre macchine quella c'è la mia che aveva allora un fuoristrada e la Clio di Giovanni Brusca nella zona la sua molto vicino dove avveniva l'omicidio la sua la Clio di Giovanni Brusca circa 300-400 metri da dove avveniva l'omicidio la mia molto più distante vicino alla rotonda di Casteldaccia che l'ho lasciata al punto in cui dovevo lasciare quella rubata e prendevo poi la mia la macchina rubata in tutto questo frattempo dove era? nel garage della madre di San Giorgio dentro era lui che si occupava a entrare e uscire la macchina San Giorgio manovrò questa macchina? sì, più volte dopo aver sistemato la macchina che cosa fate? ritorniamo ritorniamo sempre con Giovanni Scaduto e San Giorgio ritorniamo alla villa della madre da là ci avviamo con la macchina rubata cioè io mi avvio con la macchina rubata nel posto grassato deciso che è una stradina che si mette per entrare dalla villa di Ignazio Salvo mentre il Brusca Bagarella e Gioè che sono accompagnati da San Giorgio entrano dalla villa di San Giorgio che si può accedere in quella di Ignazio Salvo che ripeto sono proprio a toccare si nascondono nel giardino aspettando che uscisse Ignazio Salvo per poterlo uccidere lei rimane quindi fuori ad aspettare in macchina io rimango fuori dal cancello dalla stradina che si escede per la villa di Ignazio Salvo e che cosa succede a questo punto lei aspetta quanto? un oro non un quarto perché sapevamo che si aspettava che lui uscisse da casa per poter commettere l'omicidio al momento in cui sentivo i primi spari mi avvicinavo a un macchino indietro e prendevo prendevo l'oro lei a un certo punto sente gli spari e che fa? faccio il retromaccia circa 300 metri fino al cancello di Ignazio Salvo sapevamo che c'era un cancelletto piccolo che è accanto a quello grande che si apriva dall'interno da un interruttore che anche quello ci aveva detto il San Giorgio che conosceva bene la villa dello zio loro uscivano e li prendevo con la macchina rubata ed è successo questo? è successo precisamente così dopo il primo sparo mi sono avviato la macchina indietro dopo ne hanno sparato un secondo un terzo adesso non ricordo di preciso e poi siamo andati via hanno quindi aperto il cancello e sono usciti? non sono riusciti ad aprire il cancello ma hanno scavalcato quanto pare l'interruttore non ha funzionato hanno scavalcato lei ricorda in che ordine hanno scavalcato? di preciso no comunque il primo mi sa che è arrivato Bagarella oh quindi sono saliti tutti sulla sua macchina? si sulla macchina rubata ecco tutti chi? Bagarella Brusca e Gioia e San Giorgio? San Giorgio è scaduto aspettavano in strada l'arrivo nostro per prendersi le armi per nasconderli e allora voi ve ne andate con la macchina con la macchina rubata? noi fino a un certo punto con la macchina rubata cioè lascio prima loro lascio Bagarella e Brusca alla Clio che si avviano verso Palermo io faccio ancora circa un chilometro lascio la macchina rubata prendo il mio fuoristrada consegno le armi a San Giorgio e andiamo anche noi a Palermo e ha detto lascio Bagarella e Brusca Gioia quindi rimane con lei? Gioia rimane con me sì fino al cambio di macchina? fino al cambio di macchina sì Gioia le ha raccontato le fasi dell'omicidio? sì so che a sparare è stato prima Leoluca Bagarella con una 44 Magnum e dopo a terra ha sparato anche Gioia con un fucile a canne mozza nel gennaio del 1993 Totorina venne arrestato fu la risposta dello Stato alle stragi di Capaci di Via D'Amelio avvenute nel maggio e luglio del 1992 nelle quali trovarono la morte Giovanni Falcone Paolo Borsellino e gli agenti della scorta io devo dare una buona notizia Reina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo mi trovo in difficoltà in questo momento evidenziare l'intensità la complessità dell'operazione che ha condotto i carabinieri del reparto operativo speciale e i carabinieri dell'arma territoriale alla localizzazione e all'arresto di Dottor Iina e di un'altra persona a bordo di un'autovettura che è in corso di identificazione la personalità di Dottor Iina è nota fa parte direi della letteratura della mafia a lui sono riconducibili tutta una serie di gravissimi e reiterati episodi di criminalità nell'isola nell'intera nazione e anche fuori del territorio dello Stato fenomeni che hanno aggredito nei gangli vitali la popolazione il cittadino comune qualsivoglia attività produttiva con attacchi ripetuti contro le istituzioni statali e questo in un piano anche chiamiamolo in termini militari strategico che addirittura potrebbe avere dell'inaudito e dell'assurdo di mettere in discussione l'autorità istituzionale quasi a barattare a istituire una trattativa per la liquidazione di un'intera epoca di assassini di lutti di stragi in tutti i settori della vita civile nazionale allora beh innanzitutto cominciamo alle ore 8 e 30 circa nel centro della città di palermo viale regina viale regina viale della regione siciliana all'altezza del del motel dell'agip dell'aratone no percorrevano la strada non uscivano era una Citroen ZX non vi non vi dico di più però non vi dico di più però era pulita dopo l'arresto di Totò Riina Bagarella diventa il capo assoluto di Cosa Nostra così come testimoniato da Pasquale di Filippo cognato della moglie di Bagarella lei sa qual era alla fine del 94 il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra io non è che l'ho saputo il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra nel 94 già lo sapevo lei sta parlando di fine 94 io lo sapevo dagli inizi del 94 che era lui che dopo l'arresto di Salvatore Riina comandava Cosa Nostra cioè che era il capo incontrastato esattamente oltre a saperlo lo notavo io personalmente perché mi è capitato più di una volta che io personalmente gli dicevo senti mi fai una gentilezza siccome ho avuto suo discorso in questa zona con questo in un'altra zona che non c'entra niente con la mia zona con un'altra zona e con un'altra zona ancora questo con me ha sbagliato e lui era padrone di fare tutto quello che voleva in Sicilia allora io per esempio gli dicevo guarda quello ho avuto un discorso io ho rabbia con questa ma la fai una cortesia gliela fai saltare alla Villenaria dopo 15 giorni a quello gli saltava la Villenaria poi questo mi costa personalmente perché quasi tutta la Sicilia per incontrarsi con lui dovevano aspettare anche un appuntamento cioè non era facile poter parlare con lui anche da parte di altri esponenti mafiosi che avevano una certa entità sì ma io vorrei sapere questo però è vero che è venuto un collaboratore che ha detto che noi del Nord non siamo in grado di capire le cose di Cosa Nostra ma che non si diventi capo di Cosa Nostra a seguito di concorso per titoli e per esami fin qui ci arriviamo non abbiamo capito lei ci può dire i fatti le date le tappe attraverso le quali Bagarella dopo l'arresto del cognato ha scalato Cosa Nostra e ne è diventato il capo cioè voglio sapere lei per esempio ha mai partecipato ad incontri tra Bagarella e Brusca Bagarella sa che ci siano state riunioni fra capi mafia per cui si è deciso di dare il potere o Bagarella si è imposto per prendere il potere sugli altri allora se Bagarella si incontrava con Brusca io non lo so io lo vedevo incontrare con Matteo Messina Denaro se si incontrava con i Graviano non lo so perché non l'ho visto mai però facciamo una premessa che i Graviano a fine 1993 sono stati arrestati che lui era il capo di Cosa Nostra dopo l'arresto di Totorina questo lo so io lo confermo perché mi costa a me personalmente sulla base di che cosa le costa? sulla base di tutto perché io vivevo in una famiglia che era in contatto stretto con lui e io avevo i contatti stretti con lui e in base a quello che io ho visto e poco fa ho portato un particolare in base a quello che lui mi diceva in base a quello che io facevo lui era il capo assoluto di tutto dove voleva lui si facevano le cose se lui voleva che un omicidio si faceva nella zona di Resuttana o nella zona di Tancaccio o nella zona di Palermo Centro per ordine suo noi potevamo fare tutto poi era lui che se la vedeva con il capo mandamento dell'altra zona e gli diceva solamente abbiamo fatto questo omicidio per conoscenza ma quel capo mandamento non gliene fregava proprio niente perché era lui che aveva dato l'autorizzazione il 24 giugno del 1995 Leo Luca Bagarella fu arrestato a Palermo finiva così la sua latitanza per essere qui oggi a così poca distanza dal mio insediamento albiminale ad attestare attraverso questo importantissimo risultato questa brillante operazione l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata questo duro colpo inferto alla mafia cade in un momento particolarmente importante in cui da qualche parte viene lamentato un calo di tensione e richiesto maggiore impegno questa operazione ha visto lavorare insieme la dia di Palermo e di Roma e magistrati numerosi della procura di Palermo tutte le forze dell'ordine quotidianamente lavorano con speciale intensità e ad esse non possiamo come procura di Palermo che essere intensissimamente autenticamente sinceramente riconoscenti oggi di dia soprattutto siamo portati a parlare perché della dia è questa operazione insieme a noi e della dia vorrei ricordare i passaggi principali nel corso di questo triennio via Ughetti questa intercettazione ambientale che ha consentito di acquisire elementi di straordinaria importanza per quanto riguarda la conoscenza della quotidianità della mafia primi elementi i primi estremamente importanti per la tentatuni per la strage di Capace l'arresto di Gioè e di La Barbera che ha poi innescato un meccanismo di reazioni a catena sul piano investigativo estremamente importante ancora della dia fu l'intuizione che portò a chiedere e ottenere un colloquio investigativo con Di Matteo Mario Santo il primo a confessarsi autore della strage materiale di Capaci confessione resa a un magistrato della procura di Palermo e poi sviluppata come tutti sappiamo con altissima professionalità dai colleghi di Caltanissette della dia è l'odierna operazione che ha portato all'arresto di Bagarella quando di più sarà possibile dire perché non ci saranno più esigenze di riservatezza quanto sto dicendo risulterà con assoluta certezza non frutto di prospettazione esagerata o di prospettazione enfatizzante ma puramente semplicemente fotografia di una realtà investigativa di straordinario livello denotante straordinarie eccezionali capacità con una integrazione fusione davvero notevolissima davvero grande per la procura di Palermo non posso non ricordare Ignazio De Francisci Giuseppe Pignatone Francesco Rovoi Luigi Patronaggio Alfonso Sabella e insieme a loro il collega Piero Grasso applicato alla nostra procura dalla procura nazionale antimafia anche su questo piano una vera e propria fusione di competenze di professionalità e di sforzi quando tutto questo si realizza i risultati non possono non venire un paio di mesi fa abbiamo cominciato questa attività che come ricordava il procuratore Caselli è stata condotta quotidianamente direi anche in tempo di notte assieme alla procura di Palermo sulla base di una ipotesi molto precisa che riguardava la presenza di Leo Luca Bagarella in una certa zona di Palermo abbiamo disposto una serie di servizi a reticolo sul territorio reticolo che si è sempre più ristretto e ieri pomeriggio il nostro lavoro è stato coronato da successo effettivamente ieri quando era stato arrestato era solo guidava una macchina con una patente intestata a una persona inesistente non era armato è stato preso dopo un brevissimo inseguimento senza particolari problemi dopo essere stato arrestato e condotto in isolamento Bagarella era atteso già da diversi processi che pendevano a suo carico primo fra tutti quello per l'omicidio di Ignazio Salvo e da seguire i processi per le stragi di Capaci di Via D'Amelio di Firenze e numerosi altri egli ha sempre negato qualsiasi attribuzione di responsabilità proprio come suo cognato Totorino Bagarella fu Salvatore e fu Montello Lucia nata a Colleone c'è 2 42 signor Bagarella lei ha mai subito condanne in passato sì per quali reati per l'associazione altre cose altre cose quali per gioco anche per omicidio per omicidio sì nel settembre 1992 lei era latitante sì da quanto tempo dal 30 gennaio 92 dove ha trascorso questo periodo di latitanza se ritiene di dirlo naturalmente quanto meno è rimasto in Sicilia nella provincia di Palermo ma in questo periodo proprio non ero nella provincia di Palermo non era nella provincia questo periodo intende tutto il 92 una parte del 92 il settembre 92 diciamo una parte del 92 e che attività svolgeva dove era allora io svolgevo un'attività di commerciante di formaggi di formaggi sì e dove in Alta Italia no qua in Sicilia in Sicilia ma non nella provincia di Palermo qualche volta sì qualche volta anche a Palermo durante questa latitanza lei ha mantenuto contatti con i suoi familiari non avevo contatti neanche telefonici no ha mai avuto lei diciamo dal 92 in poi cioè da quando ha iniziato la sua latitanza il possesso di telefoni cellulari no quindi tanto meno di telefoni cellulari clonati no no non ce ne avevo non ne ha avuto si è mai fatto chiamare Franco no io mi chiamo Luca Biagi questo lo so che lei si chiama se c'era l'abitudine fra le persone che lei frequentava di chiamarla Franco vabbè le persone possono dire quello che vogliono no io sto chiedendo a lei se era no no e ha avuto documenti intestati con un nome di Franco ma che mi ricordo no presumo che durante la sua latitanza abbia usato documenti falsi anche può anche darsi ma non al nome di Franco ma può anche darsi anche al nome di Franco può darsi che li avesse al nome di Guida Francesco No questo nome non mi dice niente non le dice niente sa lei che in via Ughetti dove presumo sappia è stato arrestato a suo tempo Gioia Antonino e anche la Barbera Gioacchino è stata trovata una carta di identità in bianco rilasciata dal comune di Partinico a nome Guida Francesco e all'interno di questo modulo vi era una sua foto eh non lo so signor Presidente io questa circostanza non la conosce ho letto qualche cosa negli atti ma l'ha letto negli atti non so come mai questa cosa si trovasse e non può dare una spiegazione di questa circostanza eh non lo so io come mai era in via Ughetti questa sua fotografia e non lo so come si trovava era una fotografia recente guarda non l'aveva data lei a qualcuno può darsi che l'abbia data a qualcuno per farmi qualche documento però può darsi che l'abbia data a Gioia no Gioia l'ho conosciuto a Gioia in carcere e dopo di che non l'ho più vista Gioia come sia andata a finire là io non lo so la mia foto nel 92 eravate tutti e due liberi sia lei che Gioia quindi può darsi che gliel'avesse dato lei a Gioia nel 92 quando io all'inizio del 92 sono andato all'advento perciò quindi questa libertà con Gioia io non l'ho mai avuta ho capito lei conosce Brusca Giovanni no conosce Scaduto Giovanni no conosce San Giorgi Gaetano no conosce Di Matteo Mario Santo no conosce la Barbera Gioacchino no Gioia Antonino l'ha conosciuto solo in carcere l'ho conosciuto e poi dopo la scarcerazione non l'ha più vista non l'ho più vista conosceva Salvo Ignazio no mai mai conosciuto e mai avevo rapporto con questo signore conosceva Salvo Antonino no conosce Di Filippo Emanuele ah l'ultimo corso Beniamino non è un Beniamino è un imputato collaborante questo l'ho conosciuto l'ho visto un paio di volte prima fino al giorno che mi sono sposato poi non l'ho più visto fino al giorno che si è sposato sì poi non l'ha più visto negli ultimi quindi lei si è sposato quando mi scusi al 91 nel 91 da allora in poi non l'ha più visto no non l'ho più visto e il fratello di Filippo Pasquale lo conosce? uguale sono stati invitati nel mio matrimonio perciò quindi non è che posso erano invitati al matrimonio e dopo non li ha visti più? no ma Angano Antonino lo conosce? no no Calvaruso Toni lo conosce? no quando lei è stato arrestato Calvaruso Antonio non era con lei no io sono stato arrestato da solo da solo in macchina in via regione perciò questo Calvaruso che lo includono con me non vedo come non c'entra niente con Brusca Giovanni era imputato al maxiprocesso? non lo so penso che era imputato ma comunque lei era imputato al maxiprocesso? sì e Brusca non l'ha visto neanche al maxiprocesso? Brusca Giovanni no si erano a Brusca ma lui no i salvo non erano imputati pure al maxiprocesso? mi sembra di sì e non li conosce se poi le ho viste qua in pretorio ma non significa che li conosco questo è la Barbera l'ha conosciuto o no? no mai si è incontrato con questo là io andavo mi scusi e come gli ho passato il processo con Gioe ed Arce di Artofonte non lo so se questo magari quando andavamo al processo questo sarà venuto là per salutare perché venivano parecchie persone di Artofonte a salutare ma io non ho mai avuto supporto o conoscenza con questo sito lei è stato arrestato ha detto il 24 giugno del 95 sì dove abitava in quel periodo? dove abitava? non è che interessa a questo processo interessa questa era a Palermo abitava a Palermo aveva la disponibilità di armi in quel periodo? no aveva dei documenti con sé al momento in cui è stato arrestato? sì di che documenti si trattava? lo ricorda? una patente a chi era intestata lo ricorda? non mi ricordo si chiamava Amato Amato Giuseppe può essere? può anche Amato Giuseppe forse rilasciata da quale comune? quello di Palermo o qualche altro? nella provincia di Palermo da un comune nella provincia di Palermo senta a proposito dell'attività che lei diceva avere svolto riguardante i formaggi aveva una sede questa attività? aveva dichiarato una sede un ufficio un negozio qualche cosa? io avevo altre persone che non è che posso dire a lei io esercitava questa attività non è che posso dire a lei con chi esercitava questa attività per il tramite di altre persone di cui non intende fare il nome quindi non era a nome suo questa attività certo che non poteva essere a nome mio perché io ero la detentra però io esercitavo l'attività normale io andavo a comprare formaggio lo consegnavo lei aveva la disponibilità di altri documenti al momento del suo arresto? no non avevo sempre si aveva altre patenti altre carte di identità? no in tasca non avevo in altri luoghi nella sua disponibilità aveva può anche darsi che in altre poste se avevo qualche acciacolo aveva per esempio una patente intestata a certo Maone Salvatore non me lo ricordo ma può anche darsi un documento intestato a certo di Martino Francesco interessante perché io ero lavitante per quanto mi capitava di avere qualche documento il ruolo di Bagarella nella cosiddetta stagione delle stragi è stato di primissimo piano come riferisce Pasquale di Filippo la ragione delle stragi di Firenze Roma Milano e della tentata strage allo Stadio Olimpico è raccontata ampiamente dai collaboratori di giustizia dirlo qual era lo scopo di queste stragi lo scopo di queste stragi era quello che sono stati portati buona parte di detenuti al carcere di Pianosa e la Sinara è stato messo il 41 bis quindi buona parte di tutti questi detenuti si lamentavano e questo mi costa a me personalmente perché sono andato per tre anni a fare colloqui a carcere di Pianosa si lamentavano del regime un pochettino rigido che c'era nel carcere di Pianosa e la Sinara e del 41 bis quindi il motivo di queste stragi è stato un ricatto verso lo Stato praticamente o togli Pianosa a Sinara e 41 bis o noi ti facciamo saltare i monumenti di conseguenza saltando i monumenti cosa succede? è un danno per lo Stato italiano e nello stesso tempo se saltano i monumenti i turisti qua non vengono più quindi si bloccava anche il turismo è normale che se io sono turista e sento che cominciano a saltare chiese monumenti eccetera eccetera quei momenti cerco di tenermi lontano dall'Italia e quindi in questo senso si bloccava anche il fenomeno del turismo ma questa è una cosa secondaria comunque la cosa principale era quella di ricattare lo Stato se non vengono più i turisti si blocca poi successivamente io questo l'ho commentato con Bagarella chi parla e io chi è Bagarella Bagarella abbia pazienza mi scusi lei si è comportato con grande disciplina e rispetto fino a oggi non capisco perché proprio ma purtroppo non è che i nervi arrivano appunto io lo capisco i nervi ma bisogna anche mi scusi sono dieci per cortesia sono undici mesi che noi stiamo procedendo è la prima volta che sento la sua voce e che mi complimento però la prego di continuare che fino ad ora perché se comincia a disturbare io la devo avvertire che sarei costretto a farla uscire dall'altra non è possibile intervenire in questa maniera la legge non lo consente se lei ha da fare delle dichiarazioni chiede di fare delle dichiarazioni lei mi deve scusare ma purtroppo signor Presidente visto che io sto dicendo delle bugie no per cortesia lei non ha possiamo fare pure un controllo lei non ha diritto di parlare lei parla quando deve rispondere Bagarella ha da fare delle dichiarazioni? ma se se lei non vuole fare confondo con questo battaglio lo faccio ma sul confronto il merda che sei sei un pezzo di merda sei un pezzo di merda sei un pezzo di merda stai attento a come stai attento a come fai un pezzo di merda perché ti faccio piangere pure in carcere non può insultare vieni faccia che sei un pezzo di merda lui ha cominciato io non ho cominciato signor Presidente lei a lui lo ha sentito solo qua io lo so signor Presidente quindi continuavo sulla domanda che cosa ebbe poi successivamente Bagarella a confidarle a lei direttamente? poi ne ho parlato con Bagarella però questo l'ho commentato con Bagarella dicendo che non si era risolto niente su discorso l'abbiamo avuto io personalmente con lui in via Pietro Scaglione Leuluca Bagarella di famiglia mafiosa è stato uno degli esponenti più spietati e implacabili di Cosa Nostra anche il fratello Calogero era un esponente del clan dei Corleonesi e rimase ucciso nel corso della strage di Viale Lazio del 1969 anche se nel corso di un'audienza Leuluca Bagarella ebbe a negare questa circostanza Grato ha detto l'altro giorno che nel 1963 io feci arrestare mio cognato all'epoca non eravamo cognati Zina Salvatore e mio fratello tanto che vi invito ad andare alla caserma dei Carabinieri a cercare i verbali ebbene se non ricordo male Zina mio cognato ora è stato arrestato verso novembre del fine novembre del 63 sì io sono stato arrestato verso il 20 di giugno del 1964 mio fratello era l'addetante è rimasto sempre l'addetante e tuttora è l'addetante quindi io non ho fatto arrestare a nessuno Grato a posto di parlare di queste cose che a me l'altro giorno volevo prendere la parola l'altro giorno però ero troppo troppo arrabbiato e ho preferito parlare insomma con la gara dovrebbe raccontare quanto ha fatto fare assieme a Contorno l'arresto dei 162 a Palermo quanto che questi Contorno e lui che poi si è saputo al Maxi processo venivano chiamate prima luce quindi che avviene qua ora dopo 50 anni a dire una falsità dopo 20 anni che fa il collaboratore viene in questo processo a venire a dire che io ho fatto arrestare beh dovrebbe pensare per i fatti suoi però se la Corte vuole può cercare questi doguoi io cercherò qualche documento ma sarà difficile perché quel processo è stato celebrato a Bari nel 1969 è stata data la sentenza i suoi difensori potranno documentare noi prendiamo atto le sue dichiarazioni anche per capire noi perché lei mi pare che ha lanciato un'affermazione quindi lei ci sta dicendo che suo fratello Caloggio è vivo ed è latitante abbiamo capito bene è latitante è stato sempre latitante non è stato mai arrestato Presidente va bene ne prendiamo atto mai arrestato della sua dichiarazione questa è un'invenzione di grado Bagarello è stato per almeno 25 anni protagonista dei crimini più efferati compiuti dai corleonesi sia nei confronti di uomini dello Stato che di altri esponenti di Cosa Nostra lo stesso Totò Riina più volte anche pubblicamente gli ha tributato affetto e riconoscenza Allora a questo punto noi avevamo in sospeso la richiesta di dichiarazione spontanea da parte di Riina ci sente da Parma? Dunque signor Presidente è a distanza di tempo che non mi ricordo bene la giornata 6 14 o il 15 di gennaio del 93 che abbiamo arrestato però lontanamente a farmi arrestare sia stato mio cognato è fuori del dubbio ma questo 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 zambellotto di di radio ne poteva fare a meno il cane questa pietra così perché Allora però Riina scusi lei non deve fare commenti sulla testimonianza deve riferire fatti se ritiene di avere fatti di riferire noi l'ascoltiamo commenti su testimoni lasci stare vada avanti però però non si potrebbe ripetare questa cosa questa valutazione la lasci a chi la può fare mi dica cosa vuole dire in relazione ai fatti in concreto mio cognato non mi ha fatto arrestare ne a me e ne ha fatto arrestare ad altri quindi mio cognato è un alantuomo non ha altro da dire va bene allora possiamo fermarci allora qui analizzare la figura di Bagarella è quindi fondamentale per leggere ed interpretare gli avvenimenti più oscuri che hanno scosso l'Italia di Bagarella